... ... I due, Vito è stato a guerra nazionale, i due dividi! Si è arrivato! Si! Troppo! 423 punti! L'Ivo si tocca con 417 punti, Vito! I due punti! I due punti! I due punti! I due punti, i due punti! Attic裂ci! Allerrige che i chiudi non mi ripese es수� Thirty sottosimo héli蛋! E' miпись da un Opening bell Winzeria Role, E' la mancione ultima, un grande applauso, l'ultimo momento, il problema è facile andare a quello che hanno fatto in questa sera, lo sparo che la ditta è in particolare, a tutti i punti di trattamento simulamente, potrebbe ricordare il calore, ma semplicemente di semplastia, per lo sparo in questo momento. E' il segnale della politica del salvo, l'isola che c'è qua. E' il segniale della politica del salvo, non è nascosto, non è nascosto. E' il segno. E lo sparo che la ditta è in particolare, e lo sparo è la nuova, so che non si from. Ma come�ano in? E' il segno. E' il segno! E' il segno. A noi vi passiamo, a noi vi passiamo qui a dei portati, e della patatora, e a cattura l'accento, tra la vita in 8. Grazie!